Ciao amici, avete presente il Big Jim 7 facce? Io ce l'avevo quando ero proprio piccolino piccolino e tu schiacciavi da qualche parte la schiena e gli si girava la faccia, così non lo trovavano mai e nella storia questo qua era una spia, uno 007. Oggi abbiamo le double face di Giuseppe Conte, guardate un po', prima quando era il governo con noi e sul tema Arsenal, Tal e quindi dell'Ilva, diceva che lo scudo penale sarebbe stata una schifosa iniziativa e dopo esattamente il contrario, double face, guardate un po'. Pensare che si possa gestire un'azienda solo a condizione di avere un'immunità penale mi sembra come dire un privilegio, io come prima questione ho posto oggi alla controparte il tema dello scudo penale come prima questione, ho offerto, ho offerto, ho offerto. Insomma qualcuno ancora si chiede perché abbiamo fatto cadere il governo con questo personaggio, un personaggio che non ha una parola, ne ha dieci, è come il Big Jim 7 facce, il nostro double face Giuseppe Conte è il protagonista di una terribile storia, quella che ci vedrà non solo con una manovra economica tutte tasse, 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 ma anche l'enorme problema della città di Taranto e della Puglia. Ciao.